allora ci troviamo al cimitero di praravolo questa è la mia moto da ammirare quanta è zozza e niente adesso ammirate la faccia che fa crevi un secondo cretia ma che scemo dove cazzo sta andando vieni vieni un attimo vedremo la vuoi provare la vuoi provare sei sicuro si sta il mio casco cos'è meno il microfono funziona meglio no da solo te la provi un attimo da solo ah si questo pezzo qua allora aspetta provo a vedere il casco sì stretto ma mi sta ok eh no non riesco a deglutire ok mio cugino fuori di testa si si tu sei fuori di testa comunque tu sei fuori di testa vediamo vediamo sto mostro dobbiamo vedere cosa ne viene fuori per ora seconda terza siamo in 60 all'ora e va benissimo vediamo giù la visiera perché da abbastanza fastidio 90 130 130 non è arrivato i 130 non avevo neanche il motore in coppia e non ho neanche aperto mamma mia porca troia che bestia ragazzi è assurdo vediamo se riesco a girarmi qua senza uccidermi perché è anche pesantina mettiamo piano porca troia porca troia ma cos'è no 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 mettila giù mettila giù no 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 minca ma quello è fuori di testa no 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 ma non è normale oh ragazzi ve lo giuro non sono riuscito ad aprire tutto il gas non ce l'ho fatta è assurdo aspetta che qua non mi ricordo dove è la strada no 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 è da fuori di testa sta cosa madonna santa no no è devastante però è una figata assurda non ne hai neanche tirato mi non lo so sono arrivati 140 ma ho chiuso non so neanche quanto quanti giri sono arrivato madonna da fuori di te sono arrivato al ponte mi sono girato e sono tornato indietro no te sei pazzo non ho neanche superato il ponte bentornati eccolo qua dopo aver provato il mio bolide niente torniamo ancora un po è ancora un po preso e ora torneremo a casa ma dove pensi di andare in realtà in realtà E' un po' ammollato il Cristiano Ti sei strizzato? Oggi era la giornata dedicata al Cristiano E niente, spero che vi sia piaciuto il video Sicuramente i prossimi video saranno migliori e tutto quanto Perché mi ci devo ancora un pochettino abituare Però possiamo dire che come inizio abbiamo una prova moto minorenne Abbiamo una prova moto di uno che non ha neanche la A2 Peccato che non si è ripreso quando mi ha toccato il petto Perché il mio frena nel rettilineo Però va bene lo stesso E niente, ci vediamo al prossimo video Ciao ciao